Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, il celebre programma di utilità pubblica trasmesso su Rai 3 e dedicato alle persone scomparse, un spiacevole incidente ha gettato ombre sulla professionalità del personale dietro le quinte. Mentre la trasmissione andava in onda indiretta, un errore di proporzioni notevoli è sfuggito all'attenzione della conduttrice Federica Sciarelli, suscitando un'ondata di reazioni indignate e incredulità da parte del pubblico online. L'incidente è emerso quando molti telespettatori hanno notato un dettaglio inquietante. Sullo schermo della trasmissione erano state proiettate immagini tratte dal film Terminator Destino Oscuro di Mediaset, in netto contrasto con la programmazione prevista dalla Rai. Questo errore, visibile ai telespettatori attenti, ha immediatamente scatenato una valanga di commenti sui social media, con il pubblico che chiedeva spiegazioni sulla presunta distrazione del personale dietro le quinte. La reazione del pubblico è stata immediata, con molti spettatori che si sono chiesti se ci saranno conseguenze disciplinari per chi ha permesso che ciò accadesse durante una trasmissione così importante. La GAF ha sollevato dubbi sulla professionalità degli addetti ai lavori nella sede Rai e ha messo in discussione la gestione della trasmissione. Ora, resta da vedere come la Rai affronterà questa situazione imbarazzante e se saranno adottate misure disciplinari contro i responsabili di questa distrazione indiretta. Gli spettatori rimangono in attesa di ulteriori sviluppi e si chiedono se il canale darà delle spiegazioni ufficiali in merito all'incidente. Per rimanere aggiornati su questa vicenda e su altre notizie, vi invitiamo a lasciare un commento alla fine del video e a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento presto con un nuovo video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie.